Salve Italiani Svizzera, sono qui per parlarvi di una fantastica iniziativa promossa dal comune di Berna, il Deutsche Bahn. Cos'è il Deutsche Bahn? È un buono del valore di 400 franchi che il comune di Berna mette a disposizione dei cittadini che hanno bisogno di imparare il tedesco. Quanto è importante conoscere la lingua? Conoscere la lingua vuol dire integrarsi. Dobbiamo sottoporci a colloqui di lavoro, dobbiamo migliorare le possibilità di lavorare. E come farlo se non attraverso la comunicazione? Integrazione significa lavorare, ma significa anche socializzare. E noi italiani sappiamo quanto importante sia la parola socializzare, per noi fondamentale. Il Deutsche Bahn è stato importante per me in questo percorso di Svizzera. Non solo ho imparato la lingua, ma mi ha dato la possibilità di incontrare dei compagni che sono diventati adesso per me degli amici di Weekend. Il Deutsche Bahn è un grande aiuto, non perdetelo!